Ribaltone in casa Santa Maria Cilento. Dopo 11 giornate la società giallorossa di Castellabate del presidente Francesco Tavassi ha deciso di esonerare l'allenatore Osvaldo Ferullo. Fatali al tecnico le due pesanti sconfitte rimediate nelle ultime due uscite, nelle quali la squadra ha perso in entrambe le occasioni con il pesante punteggio di 5-0. Dopo Andria per il Santa Maria è arrivato domenica scorsa il K.O. davanti ai tifosi di casa per mano della capolista Tim Maltamura. Dieci reti subite senza segnarne alcuna sono state decisive per l'esonero del tecnico salernitano che al suo esordio su una panchina di serie D ha raccolto 12 punti frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte che portano attualmente il Santa Maria a un solo punto sopra la zona play-out. Esonerato Ferullo, la società ha già annunciato il nuovo allenatore. Alla guida dei giallorossi cilentani arriva Antonio Rogazzo, tecnico napoletano cinquantenne che l'anno scorso per metà stagione ha guidato il team Maltamura e in carriera vanta esperienze internazionali. Per sei stagioni è stato vice allenatore in Cina e Arabia Saudita dell'ex pallone d'oro Fabio Cannavaro.